C'è raga bentornati sul mio canale youtube oggi torno con un bel video di tattiche e istruzioni un modulo che mi avete richiesto in tanti e sto parlando del 442 una formazione che diciamo è sempre un evergreen praticamente da fifa 20 quando era stra inflazionata e stra meta e anche quest'anno secondo me su fc25 può dire la sua quindi ci andiamo a vedere quali sono le tattiche che sto utilizzando io e soprattutto come poter impostare bene l'azione con questa formazione come al solito premessa vi ricordo che trovate il codice di questa formazione nel primo commento fissato sotto al video così ce l'avete la facile da copiare e non ci sono problemi per quanto riguarda il 442 vi dicevo nell'introduzione questa è una formazione molto bilanciata che ci permette sia di poter costruire le nostre azioni con degli scambi rapidi ma anche di poter costruire magari delle azioni in ripartenza quindi difendendoci e poi cercare di ripartire quanto più velocemente possibile di conseguenza per poter fare questo io utilizzo uno stile di costruzione della manovra con passaggi corti in maniera tale che i nostri giocatori si avvicineranno al portatore di palla per poi una volta aver scambiato con esso scappare in profondità e questo ovviamente crea delle difficoltà al nostro avversario sappiamo quest'anno quanto è forte la difesa anche se qualcuno di voi sta avendo difficoltà a difendere occhio che in teoria domani arriva il tutorial sulla difesa come al solito completo che vi svolta l'anno seguirà poi quello di attacco ovviamente perché qua non ci facciamo mancare niente però questo ovviamente all'obiettivo di andare ad abbassare la linea difensiva avversaria e cercare di guadagnare quanto più spazio è possibile per arrivare in zona pericolosa per poter poi invece favorire un recupero di palla alto e dunque un contropiede efficace utilizzo una linea di difensiva alta però in questo caso con 62 di profondità perché 62 perché è un parametro comunque che ci permette di avere una certa linea di difesa che però non è esageratamente alta in maniera tale da evitare di creare dei gap all'interno della lista della nostra linea difensiva e quindi di farci trovare scoperti poi a nostra volta quindi con 62 secondo me è un parametro che ci permette di poter recuperare e partire ma con la giusta cautela per quanto riguarda i ruoli dei giocatori abbiamo allison ovvero il nostro portiere con portiere fuori dai pali questo ci permette di poter facilitare quella che è la difesa di situazioni magari uno contro uno con l'attaccante che sta arrivando in campo aperto magari lanciato con un filtrante con uno speed boost e dunque poter partire proprio da recupero del pallone con il nostro portiere che poi va a azionare la manovra di contropiede stessa per quanto riguarda i due difensori io vado ad utilizzare entrambi con difensore difensivo in maniera tale che i nostri due difensori sono i due baluardi arretrati non hanno una raggio d'azione troppo elevato e quindi stando per bene all'interno della nostra area di rigore e sono coloro che andranno a schermare per ultimi l'arrivo dei nostri avversari e sottolineo il per ultimi e poi capirete nel tutorial sulla difesa il perché il mio terzino di destra lo gioco con terzino bilanciato in maniera tale da averlo proprio classico ovvero il terzino che se vogliamo far salire ce lo chiamiamo noi alla salita con l'l1 piuttosto che avere un terzino un po troppo indisciplinato che potrebbe poi invece scoprire la nostra fascia a quelle che sono le ali avversarie a sinistra invece lo utilizzo contornante sempre subbilanciato in maniera tale da avere un terzino che comunque ci dà supporto a quella che la nostra manovra offensiva in maniera tale da avere un raccordo anche un po tra la linea esterna e quella degli attaccanti per quanto riguarda invece i nostri centrocampisti utilizzo entrambi sul regista arretrato difensivo questo perché come potete ben vedere andando ad applicare il regista arretrato difensivo i nostri giocatori non hanno solamente come zona di copertura quella lì centrale davanti ai due difensori che però comunque può essere tranquillamente presidiata andando a selezionare con l1 il giocatore portandolo là però andando a fare quel leggero passettino all'indietro entrambi si vanno a far vedere quando andiamo a recuperare palla e facciamo ripartire la nostra azione perché sappiamo quanto può essere un problema soprattutto con una formazione un po più difensiva essere esposti al pressing dell'avversario e con i passaggi in uscita che ci sono quest'anno fare fatica poi a ripartire quindi con regista arretrato difensivo noi andiamo a cercare di risolvere questo problema che può diventare veramente scomodo per quanto riguarda i due esterni io vado a utilizzare sul mio attaccante di destra ovvero in questo caso la james attaccante interno con equilibrato e su quello di sinistra attaccante interno con equilibrato stesso con bilanciato questo perché come potete vedere dalla hit map non voglio che il mio esterno sia troppo largo e diventi un'ala perché quando vado a piazzarlo con ala di solito vedo che questo diventa un po troppo avulso al gioco sta troppo largo e non mi attacca la porta con la necessaria incisività da dar fastidio ai difensori avversari anzi con l'ala di solito si tendono ad isolare le due punte nell'area di rigore e diventano poi facile predita dell'avversario invece vedete con questa impostazione come si ritrovano praticamente molto vicini a giocare alle nostre due punte e come vi dicevo prima grazie all'impostazione del passaggio corto questo in un qualche modo ci va a facilitare quella che è la costruzione della nostra manovra offensiva manovra offensiva che poi viene ulteriormente aiutata dalla presenza di queste due impostazioni la prima è del falso 9 sull'attaccante che andrà a farci un po più di gioco ovvero quello che è dotato magari dei migliori passaggi quello magari un po più lentino tra i due e quindi verrà un po fuori dall'area di rigore per fare da riferimento per poter avviare il nostro gioco l'altro invece sarà su attaccante avanzato offensivo e andrà a presidare l'area di rigore cosa ne deriva quindi una formazione che se non andiamo a vedere con la palla risulta quasi essere un 422 quando andiamo ad attaccare anzi un 422 11 perché la punta viene fuori e viene a fare quasi la seconda punta per quanto riguarda invece la visuale con la palla vedete in realtà questo in fase di senza la palla scusatemi in fase di difesa è un 442 super standard che ci dice proprio anche nel recap la squadra ha un ottimo approccio sulle fasce fa poca fatica e poi essendo molto bilanciata ha un ottimo approccio difensivo qual è l'obiettivo della nostra costruzione della manovra con questa squadra molto semplice si cercherà sempre di andare su una delle due punte in particolare quella che c'ha il riferimento con il falso 9 sulla quale noi andiamo a scaricare la palla e poi da lì viene tutto facile perché o andiamo a scaricare sul terzino che sale o sull'esterno o andiamo a fare un 1 2 con l'altra punta va a nascere tutto quanto da lì l'importante è coinvolgere sempre la nostra manovra offensiva sia il terzino che sale sia all'esterno perché altrimenti non riusciamo andare ad allargare la nostra azione rispetto ad altre formazioni con il 442 è notato che si riescono a fare anche qualche scaletta in più sapete quanto quest'anno è difficile fare la famosa scaletta dell'extra pass però così facendo riuscite ad avere una manovra offensiva secondo me pericolosa e che vi dà la possibilità di non scoprirvi troppo perché so che tanti di voi stanno avendo difficoltà a difendere. Raga anche per questo video è tutto io come al solito vi ricordo di lasciare un bel like e un commento fatemi sapere se già utilizzavate questo modulo o se lo proverete con queste tattiche e istruzioni vi ricordo che sono in live tutti i giorni sulla piattaforma viola e a me non resta altro che augurarvi una buona giornata e un saluto nei vostri peroschi a presto ciao